Gesù Cristo, a chi vive l'angoscia per la propria situazione di fragilità, dolore e debolezza, non impone leggi, ma offre la sua misericordia, cioè la sua persona ristoratrice. Così ha scritto Papa Francesco nel messaggio per la giornata mondiale del malato. Domenica 9 febbraio, in cattedrale, il Vescovo ha presieduto la messa per la 28esima giornata del malato, con il rito di istituzione dei ministri straordinari dell'Eucarestia. In questa giornata, nella quale comprendiamo meglio che la malattia è un'occasione per riconoscere una grazia che non ha paura della sofferenza, riconoscerla nella dubbice forma di una malattia accettata nella serenità della fede e di un servizio svolto nel nome di Cristo. Sono felice di celebrare con voi questa Eucaristia, in particolare con i nostri fratelli e le nostre sorelle che fanno del proprio corpo l'esperienza della malattia particolarmente intensa. Sono felice di accogliere la disponibilità di nuovi ministri straordinari della Santa Comunione che ringrazio per questo loro desiderio di servire la Chiesa così. Domenica 23 febbraio alle 20.30, al Cinema Santa Giulia del villaggio prealpino, si terrà alla presenza di Monsignor Tremolada una proiezione speciale del film Lourdes. I registi sono andati ad incontrare i pellegrini che accarezzano la roccia della grotta di Lourdes. Hanno ripreso Lourdes come un grande teatro antropologico dove si intersecano storie struggenti.